Perché tanti duelli persi? Perché la capacità di non restare in partita? Perché si sono verificati? Qual è la spiegazione su tutti questi difetti che è appena annunciato e raccontato? La forza nel calcio, specialmente quando tu vai a giocare determinate gare, quando perdi tanti duelli o loro sono bravi nel dribblarti con facilità, creano sempre superità numerica. Quello che loro hanno fatto è noi molto meno. E questa è la forza che dobbiamo avere nel vincere determinati duelli, si perdono le partite. Il perché? Il perché fa parte del calcio, perché si giocano a certi livelli, siamo arrivati a fare una semifinale di Champions che dall'altra parte trovi giocatori di alta qualità e tu pure hai le capacità e la forza di avere giocatori di qualità perché l'hai fatto, ti sei giocato tante volte dei duelli contro giocatori molto importanti e le hai vinti, oggi a un certo momento della gara le perdiamo con troppa facilità, troppi contrasti persi in mezzo al campo e poi non parliamo solo della linea difensiva perché alla fine accorciavamo poco con gli attaccanti, accorciavamo poco con i centrocampisti, per quello è un insieme generale. Però io quello che voglio far capire è che quando c'è una palla leggibile che stanno caricando, che stanno calciando, non si può rimanere fermi o aspettare o far dare il tempo ai loro centrocampisti di inserirsi. Secondo me erano delle letture facili che noi le abbiamo fatte diventare difficili. Grazie, grazie Eusebio Di Francesco, ci vediamo fra otto giorni.